ok, anche io non è che sto facendo questo campo lavoro perché perché lo sto studiando allora il mio metodo di disegnamento è questo io gli do a loro, agli allievi gli do dei disegni che io non so fare loro non li capiscono e allora io sono costretto a imparare capoccione ok, adesso qui questo rientra e poi c'è il labbro superiore che mi viene di fuori allora verrà così ci siamo? va dentro e riesce fuori allora a questo punto qui ci abbiamo questa palletta o almeno mezza palletta ok, perché poi si schiaccia perché c'è questo canaretto che non mi ricordo come si chiama allora io disegno adesso la palletta in parte e poi qui perché questo va in dentro e ci va su verso il naso questa parte la vedo così e questa la vedo così ci siamo? dopo di che lui semplifica tutto perché che mi mette qui invece di disegnarmi la pallina e fare il collegamento fa direttamente il collegamento io invece mi disegno la pallina perché la pallina intanto la pallina questa qui sta dietro e questa qui sta davanti va qua e qui c'è un arco così che va a trovarmi la bocca ok, poi qui ci sono per come dire come appunti sempre in prospettiva un punto e un altro punto e questa se ne va in questo modo perché qui che c'è c'è una muscolatura che fa questo movimento qua e quindi è giusto che ci sia questo altro punto questa è una costruzione secondo me fatta c'è un ci sono dei bei libri di anatomia strutturale in manuali russi che si questo tipo di disegno cercando i punti di riferimento è un approccio che si usa nelle accademie russe più o meno questa qui adesso finiamogli facciamo questo è il bordo del volto che poi si allarga si restringe e va ok questa è un'altra cosa che bisogna sapere perché perché c'è questo 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 riallargamento perché qui c'è la famosa qui c'è la famosa scodella di cui parlavamo prima ve lo ricordate? e quindi bisogna andare a seguirsela un'altra cosa che vorrei suggerirvi e di tenere dita ferme polso fermo e queste cose disegnarle col disegno gestuale perché il disegno gestuale è a linea ripassata perché questo vi permette in qualche maniera di accarezzare le forme e di vedere come girano no non è ma perché quando smuffiamo gonfiamo anche questa parte no no perché qui c'è tutta se guardi un volto senza pelle no un modello di c'è tutta tutta una serie di muscolature intorno alle labbra ok e quindi intorno alle labbra e quindi Grazie a tutti